Siiii, sono tornato con un nuovo video di Minecraft, oggi vedremo cosa c'è dentro al mio cervello, sicuramente tutta segatura ma vabbè, prima iscriviti al canale per nuovi video. Ok quello deve essere una specie di cervello, se qui parliamo del mio ci dobbiamo immaginare ogni cazzo, ma va bene lo stesso, sti cazzi. Ti raccomando se vuoi nuovi video di Minecraft lascia supporto perché lo so che ancora non lo hai fatto, non credere che a causa che ho il cervello a forma di piccioca non credere che ci sarei creduto. Ok siamo nel mio cervello, tenetevi pronti perché le cose che ho dentro vi potrebbero rimanere dei traumi. Queste sono tutte le schede nel mio cervello, le schede intendo cose che ho visto e non dimentico, piccoli video. Questo è il mio livello di esaurimento che ogni giorno si allunga sempre di più. Qui o cazzo? O cazzo che dico esaurito esaurito qui veramente ho una pianta che cresce come un c***o ogni volta che mi esaurisco. Ora faccio vedere il cervello di ogni essere umano dopo due ore di matematica, che questa matematica non se ne va a fanculo lei è tutta la scuola del Cristo. Ora faccio vedere il cervello di una persona dopo aver fatto due ore di inglese, due ore di francese e due ore di spagnolo in sei ore. Spero che Neasuno abbia questo orario delle settimane perché se lo terrei io avrei messo dei missili con tutte le papere che parlano giapponese, e le avrei mandato sulla luna. Così anche gli alieni li avrebbero sputati in faccia e dato un calcio nel cu. Feo un minuto later del Cristo dopo. Ok questo è il risultato l'acqua che esce fuori facciamo finta che sia rossa, poi non so che cazzo c'entri l'acqua però ok, questo è dopo due ore di inglese, due ore di francese, due ore di spagnolo. Spero che il video vi sia piaciuto vi raccomando lascia supporto al video per nuovi video come questi, noi ci vediamo nel prossimo video.